Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Tragico lutto nella musica italiana, la terribile notizia è arrivata poco fa. Purtroppo ieri notte è morto bello schianto, tutti sotto shock. Un giovane è morto nella notte a Capua, caserta per le gravi lesioni a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto la moto su cui viaggiava. La vittima è il rapper e produttore Francesco Natale, ciccio per gli amici, in arte d'Irtiganna. A breve avrebbe festeggiato i 31 anni. Natale, secondo quanto si è appreso, tornava a casa ed era vicino all'abitazione quando la sua moto si è scontrata con un'auto, una Fiat 500, perdendo la vita. Un impatto tremendo. Il motociclista è sbalzato dal veicolo e si è schiantato sull'asfalto, riportando lesioni purtroppo fatali. Sul posto è accorsa un'ambulanza rianimativa del 118, tuttavia per il giovane artista non c'è stato nulla da fare. L'auto era guidata da un ragazzo di 23 anni, uscito illeso dallo scontro. L'auto era guidata da un ragazzo di 24 anni, uscito illeso dallo scontro. . . Grazie.